Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, Dio, nostro padre, accogli nel tuo abbraccio i caduti della guerra che qui ha infuriato, insanguinando le nostre meravigliose montagne. Signore, donaci il tuo spirito perché gli uomini del nostro tempo possano comprendere che il loro sacrificio senza il ricordo è vano. Concedi loro di godere della luce senza tramonto, per intercessione del nostro patrono San Michele Arcangelo, vincitore dell'ultima battaglia contro Satana e i suoi fedeli. Illumina la coscienza di ogni uomo e di ogni donna di buona volontà a comprendere il dono della pace e che la guerra non abbia a ripetersi. Ricordaci, oh Signore, che muore lentamente a piccole dosi chi evita l'impegno, chi diventa schiavo dell'abitudine, chi non rischia l'incertezza per inseguire il sogno di un mondo migliore. Aiuta noi paracadutisti che pratichiamo le nostre passioni, le nostre lucide follie, i nostri intimi ideali e valori. Ogni tanto cadiamo, ci rialziamo e ci riproviamo sempre, non molliamo mai, perché siamo quelli che guardano avanti, quelli che sperimentano sempre. Purtroppo ogni tanto qualche amico cade e non si rialza più, ma resterà sempre parte di noi, dei nostri pensieri, nei nostri cuori. Purtroppo ogni tanto qualche amico cade e non si rialza più, non si rialza più, non si rialza più, non si rialza più, non si rialza più. Purtroppo ogni tanto qualche amico cade e non si rialza più, non si rialza più, non si rialza più, non si rialza più. Purtroppo ogni tanto qualche amico cade e non si rialza più, non si rialza più, non si rialza più, non si rialza più. Purtroppo ogni tanto qualche amico cade e non si rialza più, 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 Grazie a tutti.